teleamiche e teleamici buonasera benvenuti alla puntata numero 11 dei senza giacca sul canale 633 di Rossini TV anche questa sera abbiamo un grande ospite intanto mi presento conduttore Marco alla mia destra Antonio e alla mia estrema sinistra Michele e come vedete abbiamo il grandissimo ospite il portierone della vispesaro Matteo Tomei buonasera a tutti e non solo perché alla nostra destra abbiamo un foltissimo pubblico formato dai grandi tifosi della vispesaro ragazzi un saluto alle telecamere che vi stanno riprendendo un applauso formati dagli amici del antico baluardo di cui poi vediamo il capo stipite che è Paolo che ha il microfono in mano io non voglio usurpare niente all'antico baluardo quindi lascio presentare a loro buongiorno a tutti sì siamo larga parte i ragazzi insomma gli uomini dell'antico baluardo del Cristo Re e da ormai ben perso il conto da quanti anni siamo tifosi della vispesaro mi sei piaciuto Vincenzo con questo gli uomini sei stato abbastanza esatto va bene così i ragazzi li abbiamo lasciati davanti sono un po' di ragazzi davanti e veniamo quindi al nostro grandissimo ospite Matteo un grazie infinite per essere qui con i senza giacca erano mesi che cercavamo di portarti in trasmissione che sia stato Facebook oppure qui in televisione finalmente dopo diciamo che i rapporti con la visse sono tornati sereni ti abbiamo tra di noi quindi un grazie infinite per aver accolto il nostro invito ringrazio io voi perché veramente è un piacere essere qui e per me stare anche con tutti i nostri tifosi è veramente molto molto piacevole quindi sono io che ringrazio voi dell'invito chiedo alla regia di mandare in onda la prima diapositiva ecco ma sei quello a sinistra o quello a destra perché qui c'è una somiglianza pazzesca vorrei essere quello a destra io sinceramente perché parliamo di un portiere di caratura mondiale quindi sicuramente sarebbe bello senti ma è vero che la visse per averti sborsato circa 80 milioni di euro come ha fatto il Liverpool con la Roma no no assolutamente è stato il mio allenatore a volermi e quindi di conseguenza io ho risposto alla chiamata e quindi sono molto contento di essere qui senti Matteo tu dall'accento si sente che sei Veneto sei nato in questo ridente paese questa è una foto appena della liberazione del 1918 sono nato a Motta di Livenza sì sì questa qui è diciamo un po' retro è ancora così oppure no no diciamo si è un po' modernizzata qui vediamo degli alpini addirittura siamo andati a cercare esatto giustamente una foto molto antica senti raccontaci un attimo la tua carriera all'inizio quando hai cominciato l'attività giovanile immagino nella tua regione no? sì sicuramente io ho incominciato nel mio oratorio oratorio Don Bosco avevo sei anni mi avevano chiesto appena arrivato cosa volevo fare che ruolo volevo fare io l'ho detto subito il portiere subito subito perché portieri si nasce non si diventa diciamo che sono diventato tra virgolette portiere se si può dire tale perché mio zio il fratello di mio papà mi ha regalato un completino di tacconi quello nero con i fulmini fucsi ancora me lo ricordo Stefano Tacconi Stefano Tacconi e quindi da lì mi è nata questa grande passione e poi dopo man mano ho fatto un po' di gavetta nei dintorni di Pordenone nei dintorni di Pordenone finché un bel giorno già probabilmente da professionista ti sei ritrovato in questo stadio sì a Dingwall a Dingwall a Dingwall e quindi è un ricordo molto bello sono stati due anni molto molto belli anche se abbastanza difficili perché parliamo di un'altra mentalità completamente diversa una mentalità che noi dovremmo copiare perché lì è una festa e qui dovrebbe diventarlo ogni domenica ma ti senti? ti hanno fatto sentire così? ecco qua parliamo di uno qua parliamo del mio film preferito quindi ho avuto la possibilità di vederlo più e più volte ho avuto la possibilità di visitare il grande museo che c'è dedicato a questo grande uomo e a Starling e quindi sicuramente loro derivano da questo film qui anche se è solo un film è pura verità ti hanno battezzato no? Matteo Reinhardt con me no no è stato veramente due anni veramente piacevoli perché mi hanno insegnato tanto esatto mi hanno insegnato tanto vediamo in sottofondo anche delle immagini del Ross County ultimamente sì adesso parliamo adesso è serie A quindi io all'epoca sono in serie A sono in serie A sì io all'epoca ero in serie B parliamo di una società molto piccola che è diventata grande perché comunque andare in serie A non è mai semplice Matteo una curiosità parliamo di serie A scozzese a cosa la potremmo paragonare? cioè dove la potremmo collocare nel nostro sistema calcio? la serie A scozzese secondo te? allora la serie A scozzese beh allora quando parliamo di serie A io credo che la serie A sia unica per tutti i paesi se invece parliamo di serie B una serie B scozzese possiamo sicuramente paragonarla a una buonissima C1 italiana però se noi dobbiamo prendere la serie A la serie A è serie A ovunque anche in Scozia quindi il livello della serie A a parte il dingo che apparentemente quindi è di livello parliamo comunque che in serie A scozzese ci sono due squadre anche se sono solo quelle magari che sono delle top anche a livello europeo quindi parliamo di Celtic parliamo di Glasgow quindi la serie A è serie A ovunque senti in città come ti sei trovato? qui ricorderai cosa è in corso? lì c'era il mio parrucchiere proprio in questa foto qui che ti faceva la barba sì sì c'era il mio parrucchiere mi ricordo ecco mi ricordo bene il tempo il tempo era sempre così era sempre così era sempre così molto uggioso poi dopo qui parliamo di e questa era casa tua le lande sì questa è fai conto che il tuo cottage dopo di anno fai conto che sì che era non era così però era simile era dispersa nella natura perché lì parliamo di lande veramente enormi e desolate dove io volevo chiedermi una cosa una curiosità perché tu prima mi hai diciamo reso curioso del fatto che hai detto ho subito scelto di fare il portiere sì quindi tu non sei passato per quella selezione naturale tra bambini dove chi va in porta è quello che sa giocare meno in tutti gli altri pari no io lì sono arrivato io lì sono arrivato e mi hanno chiesto ripeto cosa fai voglio fare il portiere loro mi hanno detto no vediamo e gli ho detto no guarda io mi piace fare il portiere e mi sono messo in porta non hai mai provato a fare non ho mai provato a fare niente fuori no 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 assolutamente ti fa onore mi è sempre piaciuto ripeto derivato anche da da questo grande regalo che mi è stato fatto e quindi poi dopo da lì è nata questa passione e ho cercato di portarla avanti negli anni l'altra curiosità che ti volevo chiedere in scostia come sei arrivato sono arrivato tramite un con l'aereo si si può dire anche via nave no se si si può dire sono arrivato con il ragazzo che mi che mi seguiva il procuratore adesso vengono chiamati i procuratori il ragazzo che mi seguiva e che mi ha fatto questa proposta io ero a Trieste mi ha detto hai voglia di provare un campionato estero e io ero giovane avevo 22 anni quindi non avevo famiglia ero single ero un ragazzo e quindi ho detto si proviamo a fare questa grande esperienza e si è reputato è andata bene dai si è andata bene a livello umano è andata bene anche perché la scossa non è diciamo una prima meta di tanti giocatori no è una meta in cui il video di prima lo dice benissimo quando parliamo di brevat è una meta patriottica perché è anche una meta di viaggi di notte Michele no mi prendono in giro perché il mio viaggio di notte l'ho fatto in scossa e penso di non esserci neanche passato tanto lontano da Dingwall da Dingwall ti dico io è una meta sono molto patriottici quindi a me all'inizio è stata un po' difficile perché comunque gli stranieri non sono visti bene nel senso gli stranieri si devono adattare tu sei venuto nel nostro paese ti adatti non sono come noi che cerchiamo di far star bene tutti lì invece ti devi adattare se non ti adatti te ne torni a casa quindi per un giovane è una fonte ancora di maggior impegno per restare in quella scuola sì sicuramente sicuramente sì anche perché con la lingua loro non ti aiutano cioè o la capisci o ti arrangi mi sono reso conto in viaggio di notte o ti arrangi senti a proposito di adattamento quante volte ti sei dovuto adattare con il cannocchiale a cercare di avvistare questo personaggio leggellare sono andato sono andato è un lago che è bellissimo che però fa una paura incredibile non perché magari si vede il mostro ma perché è proprio un lago l'acqua è totalmente nera ti fanno visitare te lo fanno visitare ti danno una barchetta a remi proprio piccolissima dove veramente questo lago è grandissimo dove c'è l'acqua tutta nera e quindi la paura è quella non vedi cosa c'è non vedi cosa c'è sotto quindi non è il mostro che fa paura non è quello che fa paura no senti invece a proposito di bellezze locali la Scozia come è messa? guarda ti dico non ho avuto non ho avuto la possibilità di conoscere nessuna nessuna di queste ragazze perché queste sono le finaliste di Miss Scozia 2018 non ho mai avuto la possibilità di conoscere queste ragazze anche perché ti dico velocemente un aneddoto io il primo giorno che sono arrivato in Scozia la prima sera dopo aver firmato il contratto sono andato al pub tra virgolette al pub che se si può direttare a festeggiare e non sono più uscito la sera perché poi dopo ho visto scazzottate incredibili ambulanze polizie quindi da lì ho detto è meglio che non esco più e sono uscito veramente ecco invece a proposito di scazzottate questo personaggio qui che ha giocato attualmente allenatore del Milan se lo ricordano bene tra l'altro un cattolico che ha giocato con una squadra protestante sì assolutamente sì lì è un diciamo è un idolo nel senso che comunque l'italiano in sé per sé quando va in Scozia all'inizio è visto un po' male poi dopo invece se il campo ti aiuta molto e poi dopo ti venerano dopo la parentesi scozzese torni in Italia sì con la maglia del Real Real Vicenza del Real Vicenza del Real Vicenza sì anche il Real Vicenza questo nome il presidente voleva era un partito del Real Madrid e quindi ha fatto la seconda squadra del Vicenza chiamandola Real Vicenza tu pensa noi abbiamo il Real Montecchio quindi partiti del Real Madrid dopo poco tempo ti chiama il Pordenone fai qualche anno a Pordenone però purtroppo pochi mesi prima lasci la squadra del Pordenone e ti perdi questa partita storica per la società che tra l'altro adesso arriverà a proderà in serie B sì sicuramente questa è stata una partita che il Pordenone avresti giocato se fossi stato lì può essere ma può anche essere che magari non ci fossi non ci fossi neanche arrivato perché appunto Simone che è un mio caro amico è stato veramente veramente bravo anche le partite prima quindi è anche merito suo se sono arrivati lì e sono contento per tutti i miei ex compagni perché se lo sono meritati è una grande una grande emozione vederla anche in televisione esatto poi dopo mi pare che seguendo un po' la tua carriera sei rientrata in Italia hai giocato hai giocato proprio nel Mediterraneo giusto in un'isola famosa l'isola di Liri vicino a una delle oli no non è una delle oli in realtà in Ciociaria no in Ciociaria sì sono andato a giocare lì a Isola del Liri che è la città di mio papà dove è nato mio padre e quindi sì è stata una parentesi molto piacevole perché comunque c'è tutta la mia famiglia e quindi sì è stata una bella parentesi anche se non è stata felice a livello di risultato sportivo quindi di conseguenza però mi ricordo molto è una terra che mi porto dentro perché fa parte della mia vita e della mia famiglia certo poi sei andato a Siracusa e finalmente l'approdo con la maglia della vis questa è una bellissima foto i ragazzi forse si ricorderanno che foto è questa Francisco tu che sei un fotografo forse con la fermana magari con la fermana sì la partita in casa no io credo forse è la partita contro la Ternana ah lo 0-0 sì sì lo 0-0 credo mi ricordo vagamente questo abbraccio col capitano senti invece qui abbiamo ovviamente alcuni tuoi colleghi questo te lo ricorderai questo è il tuo contemporaneo diciamo che parliamo di uno dei più grandi sentimenti quarto ti sei mai ispirato a lui hai mai visto qualche foto perché tanto i video non c'è no 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 però parliamo di parliamo di una grande icona una grande icona come quest'altra sì che abbiamo degli amici torinisti qui anche tra il pubblico Bacigalupo che ha fatto parte del grande Torino Antonio dai buttala lì e annuncia chi sarà ospite nostro la prossima il prossimo venerdì perché è un grande nome il prossimo venerdì avremo ospite in questi studi a quest'ora Eraldo Pecci siamo contentissimi di averlo già invitiamo i nostri amici della Vis soprattutto chi anche attiene per il Torino a essere presente con noi venerdì prossimo perché Eraldo Pecci ci parlerà di tutta la sua corriera del Torino di quegli anni fantastici di radice parlerà un pochino anche della sua partenza nel Bologna perché lui comunque appartiene calcisticamente al Bologna quindi siamo davvero contenti è un colpo eccezionale per noi senza giacca avere Eraldo Pecci qui in trasmissione esatto quindi dopo Matteo Tomei un grande personaggio che ha fatto la storia del calcio quindi abbiamo un altro un altro grande portiere già stiamo arrivando ai nostri tempi Matteo te lo ricordo non ci sono parole anche se sei ritirato magari prima che tu nascessi assolutamente sicuramente però è stato forse il primo ad adattarsi e a far vedere un modo di stare in porta diverso e quindi non lo scopro di certo io e invece quest'altro grande personaggio che adesso sembra rinnovi con il Paris Saint Germain parliamo dell'icona del calcio italiano sotto il punto di vista dei portieri ci sono le lacrime dei tifosi la dicono tutta quindi di conseguenza le lacrime sono i tifosi del Paris Saint Germain parliamo di uno delle grandi fonti di ispirazione per quanto riguarda il nostro ruolo Matteo ti volevo fare una domanda perché tu prima hai citato Stefano Tacconi Stefano Tacconi recentemente ha fatto un'uscita abbastanza controversa non so se l'hai sentita ha detto che secondo lui se lui fosse stato in porta l'Italia avrebbe vinto i mondiali del 90 non lo scopro sì diciamo Tacconi è sempre stato un personaggio abbastanza spavaldo anche nel modo di stare in porta quindi io non saprei dirti sinceramente io credo che credo che noi dovremmo incominciare a a porre le basi per il futuro dell'Italia calcistica e quindi giusto parlare di Tacconi no no speriamo di risollevarci abbiamo un grande esempio che è l'Ajax che cura i giovani quindi dovremmo cominciare a farlo ma poi abbiamo anche un bel esempio di giovani portieri italiani perché c'è una bella generazione Donna Rumma io sono un grande sostenitore di Meretta al di là dell'errore che ha fatto la settimana scorsa però ecco sono veramente giocatori di grande livello e dobbiamo e qui poi dopo appunto si entrerebbe anche in un altro discorso che le regole dei giovani non servono perché se abbiamo dei giovani del genere come Donna Rumma e Meretta vediamo benissimo che giocano lo stesso e quindi è giusto farli giocare perché è giusto portare avanti questo grande progetto io Antonio direi di lasciare adesso la parola e il microfono ai nostri tifosi che potranno intervenire a ruota libera con il nostro Matteo allora prima di lasciare la parola ai tifosi diciamo intanto una cosa che prima ha intervenuto Francisco ma non ho avuto il coraggio di dire che è un collega di Matteo sono un portiere come te sono un portiere d'albergo ci siamo ci siamo incontrati lo sai quindi mi considero un tuo collega siamo colleghi perché anche io sono un portiere d'albergo finito siamo colleghi no no assolutamente no no ecco qui abbiamo sotto fondo le immagini del derby di Fano sì dell'andata tutta la tiforesiera rappresentata assolutamente sì una partita importantissima per noi ed eravamo presenti come sempre sì a sostenere la vis perché la vis si ama non si discute quindi quando c'è bisogno la seguiamo e siamo sempre lì noi come dicevamo prima siamo uno dei gruppi formato da persone più grandi ci siamo da tanto tempo ma onore a tutti quanti ai giovani che hanno imparato ad amarla come noi niente io ti volevo fare una domanda così fuori qual è stata la tua più grande parata e qual è stata la tua più grande papera se ti ricordi non parlo magari sia anche nel campionato attuale ma in generale ma allora non ho mai avuto la fortuna di fare una una grande parata che servisse a un grande risultato mi spiego non ho mai avuto la fortuna di giocarmi una finale playoff ho avuto la fortuna di giocare una semifinale non ho mai avuto la fortuna di giocarmi una partita che se si vince si va in serie B quindi le grandi parate vanno anche accostate a grandi risultati e quindi di conseguenza io sì qualche parata riesco a fare riesco a fare era grave quindi quindi no diciamo la parata che mi ricordo è quella parata con la Ternana quest'anno infatti volevo sentirti dire questo mi ricordo la parata una parata simile capitata l'anno scorso a Lecce in uno stadio importante e questo secondo me diciamo dai poi dopo un po' tu lo sai meglio di me il lavoro il lavoro del portiere al giorno d'oggi è diventato abbastanza diciamo secondario alle parate c'è una grande gestione palle alte i piedi ormai il portiere per la spettacolarità del calcio odierno deve sapere fare un po' di tutto ma tu hai degli ottimi piedi quando fai dei rilanci mi piace mi è sempre piaciuto giocare con i piedi quindi sì è una caratteristica che mi piace molto poi dopo per quanto riguarda gli infortuni ci sono stati ce ne saranno tanti altri perché nella nella carriera di un portiere ce ne saranno e ti dico non te lo saprei dire perché ho preso qualche gol giocando un po' troppo spavaldo con i piedi quindi magari è successo un passaggio sbagliato un rinvio che ho tardato a farlo per cercare una giocata è stato rimpallato è rimasta lì hanno fatto gol mi sa che qualche spaghetto ce l'ha fatto prendere quest'anno o no è il modo contemporaneo di giocare il portiere e comunque il concetto è le cose belle ce le ricordiamo per migliorarle gli errori li lasciamo da parte li studiamo però li lasciamo da parte hai detto bene gli errori vanno studiati io ho avuto la fortuna di trovare delle persone importanti nel mio percorso che mi hanno sempre dato una mano nel come hai detto tu studiare cosa si fa sempre nel bene e nel male quindi dagli errori sicuramente si impara tanto e quindi sono grandi lezioni di vita grazie io da Juventino ti dico che anche Buffon ha una bella papera coi piedi me la ricordo proprio c'era una domanda qui ancora dall'antico Baluardo allora sì Matteo io ti volevo fare una domanda un po' particolare nel senso adesso poi mi sentirai tu hai probabilmente giocato in squadre più votate all'attacco e a vincere la partita magari 3 a 2 allora quello che ti volevo chiedere come cambia la testa di un portiere a giocare in squadre dove diciamo può prendere un gol anche 2 che sa che magari la sua squadra ne potrà fare 3 mentre viceversa quest'anno dati alla mano la Vis è più incline a difendere meglio per non prendere gol e magari uno basta per vincerla così come uno potrebbe bastare per perderla nella testa di un portiere come come avviene diciamo questo cambiamento psicologo ad adattarsi a un certo tipo di squadra piuttosto che a un'altra ok allora partiamo da se ne fai tanti ne puoi anche prendere quindi di conseguenza se una squadra fa tanti gol mi viene in mente un esempio la Carrarese di quest'anno che ha un attacco incredibile e fa queste grandi partite 4 a 3 4 a 2 3 a 2 sono squadre che sono votate a stare comunque lì sopra sono votate a vincere il campionato quindi ci sono nella testa del portiere ci sono altri magari io te lo dico dal mio punto di vista e poi dopo per un altro può essere diverso ci sono altre altre pressioni o altre come non chiamiamole pressioni ci sono altri aspetti per essere concentrati sai benissimo che magari anche se lo prendi poi dopo c'è la capacità di farlo quindi sono cose diverse invece quest'anno come magari anche in qualche altro anno è motivo di grande come ti posso dire di grande attenzione di grande concentrazione di grande voglia di fare sempre bene perché sai benissimo che magari se tu prendi un gol magari c'è la possibilità di perdere la partita o di pareggiarla e quindi magari qualche volta di vincerla però è grande motivo di orgoglio per me perché vuol dire che vuol dire che comunque si fa più parte forse il portiere si sente più parte di tutta la squadra si sente più parte in causa cioè il tuo ruolo ha un peso specifico maggiore sì è motivo di grande come ti posso dire di grande soddisfazione per me e per i difensori perché vuol dire che comunque il risultato dipende anche tanto da noi anzi forse il tuo mattone è il primo sì diciamo che il mattone è il uno nella schiena il mattone il mattone è il primo quindi è normale che fa piacere anche questa diciamo fa piacere questa tensione chiamiamola così questa tensione nel non dover prendere gol quindi quindi sì per un portiere forse è più gratificante giocare in una squadra dove è previsto prenderne pochi piuttosto che in una che è vero in una grande squadra forse si sente un po' meno protagonista si sente un po' meno protagonista è tanto gratificante quanto sicuramente un pochettino più difficile perché devi essere più delicata più delicata devi essere sempre lì e mio papà mi dice sempre la qualità più grande che un portiere può avere per lui è essere concentrati sul pallone 95 minuti e non è semplice perché ci sono mille sfaccettature mille varianti durante una partita grazie il pubblico in platea ha altre domande Davide? ciao Matteo ciao mi hai fatto ricordare la tua più bella parata una delle più belle parate di quest'anno che è stata quella con la Ternana e quel giorno io ho iniziato ad apprezzare il portiere Tomei poi però ho iniziato ad apprezzare anche l'uomo Tomei perché il tuo modo di essere in campo specialmente nel ringraziamento finale ai tifosi è una cosa che io apprezzo tantissimo sei venuto anche nei momenti in cui la nostra squadra ha voltato le spalle tra virgolette era il momento di tensione però sei venuto sempre chiedendo quel gesto come se chiedessi scusa vi chiedo scusa per il come è andata la partita il risultato tutto ma è uno stile di vita al tuo proprio questo questo è un rapporto col tifo e in questo modo perché io ti trovo una persona molto educata e molto rispettosa è come se noi rispettiamo i giocatori e allo stesso tempo il giocatore che vive sempre in questo mondo tra virgolette dorato capisce anche i sacrifici che facciamo noi quando veniamo e vi seguiamo è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché sei arrivato molte volte da solo sì io ti dico come stile di vita hai centrato questo è il mio stile di vita prima prima di tutto ci sono gli uomini e quindi voi siete degli uomini poi dopo siete dei grandi tifosi quindi di conseguenza il mio rispetto va prima all'uomo e poi dopo al tifoso che è sempre è sempre uomo e quindi quando ci sostenete dal primo al novantesimo in qualsiasi situazione poi dopo è normale i fischi ci possono essere perché così così è però il rispetto per me che ce l'ho anche tatuato per me il rispetto è la cosa principale è la mia base di vita io devo rispettare tutti perché non deve mai mancare quando manca il rispetto è meglio neanche stringerci la mano e quindi di conseguenza è un mio modo di prendere la vita e quindi io il venire a ringraziarvi il venire a scusarmi è il la scusa è perché comunque voi ci siete sempre e anche noi ci siamo sempre però in quel momento magari siamo mancati però il ringraziarvi è doveroso è rispettoso e quindi per me sarà sempre così sarà sempre così perché non parliamo di tifoserie parliamo sempre di persone e di uomini in certi momenti sembri proprio Braveheart quando avevi tutto arrabbiato grazie a Dio è diventato il mio lavoro perché il calcio è il mio lavoro è da mangiare ai miei figli alla mia moglie quindi per me è lavoro però prima di tutto è uno stile di vita è una grande passione che è la mia vita e quindi per me venire sotto a esultare con delle persone con degli uomini che ci stanno vicini sempre è qualcosa di è qualcosa di impagabile avvaloro poi quello che diceva Davide perché per chi conosce comunque Matteo anche al di fuori dello stadio dell'aspetto sportivo io posso confermarvi è una persona straordinaria c'è una persona straordinaria proprio a 360 gradi e questo gli fa onore fa onore a lui fa onore a chi come lui chi ha questo atteggiamento nei confronti della vita quindi Matteo veramente complimenti per tanti mutilazzi ma poi per noi che ci battiamo spesso per questo modo di vivere il calcio sia da parte dei calciatori che soprattutto dei tifosi le tue parole mi hanno dato veramente una sensazione molto bella di un bel messaggio perché in realtà io vedo molto più spesso che manca il rispetto invece dall'altra parte nei vostri confronti per cui quando riusciremo a avere qualcuno dalla parte della tifoseria in generale diciamo perché senza nulla togliere nessuno che parlerà come te avremmo fatto un passo avanti è una diceva prima è uno stile di vita l'anno scorso non sto qui a spiegare perché sennò ci dilunghiamo troppo è una storia tanto lunga anche perché il Big Ben purtroppo sta dicendo il tempo è tirato è una storia lunga l'anno scorso io ho imparato una lezione grandissima mi è stato mancato di rispetto da una persona che non non faccio il nome e quindi di conseguenza da lì anche prima lo ero ma da lì ancora di più il rispetto è la base della vita quindi guai a chi lo calpesta perfetto senti siamo in conclusione di puntata noi terminiamo sempre con i cosiddetti spronostici ok io abbiamo preparato tre partite sulle quali devi essere secco sì Torino-Milan uno Inter-Juve X e non poteva mancare il derby di Spesaro-Rivini adesso non essere di parte sì veramente non dobbiamo cercare ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere no 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 rispondo così dobbiamo cercare di portare a casa tre punti per vincere il nostro campionato grazie 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 quindi quindi ragazzi il pareggio come la vedete all'unisono no no bisogna fare i tre punti perfetto chiudiamo qui teleamiche teleamici vi ringraziamo di averci seguito ringraziamo Matteo Tomei grazie a voi ringraziamo i nostri graditissimi amici in primis e ospiti in secondis e lancio il collega Michele che deve fare il trailer di quello che andrà in onda fra pochissimi minuti esatto volevo ricordare a tutti i telespettatori che come ci aveva anticipato Graziano Rossi ci ha invitato a una giornata nella sua passione del drifting da cui è stato realizzato un bellissimo speciale che andrà in onda credo dopo il notiziario alle 21 alle 21 perfetto quindi rimanete sintonizzati sul canale 633 di Rossini TV ci vediamo venerdì prossimo puntata numero 12 con Eraldo Pecci ciao a tutti dai senza Gianni buonasera a tutti grazie buonasera a tutti grazie a tutti